Ok, ciao Emma, ti voglio bene, ciao, grazie mille davvero Valerie. Fa buon viaggio e non preoccuparti di nulla, tua figlia è in ottime mani. Un'ossessione malata. Oh mio Dio, Emma! Ciao Emma, ti ricordi di me? Perché una donna dovrebbe architettare un piano così elaborato per incastrare lei? Abbiamo una corrispondenza? Sembra di sì. Lisa Moore, Alabama. È lei. Ha dei precedenti. Un incubo senza fine. Il ciclo nel segno del giallo. In prima visione assoluta, inganno letale. Questa sera alle 21.05. Rai 2